Dopo una settimana incominciai e mi abituai e rimasi fermo così. Intanto sei mesi erano passati, ha visto signora, io non sono ancora morto. Dopo altri sette mesi, mentre mi hanno portato fuori, io mi esploravo con lo specchio, mi esploravo il corpo. E ho fatto così con le dita dei piedi, mi dicevo ma io ho mosso le dita dei piedi e mi misi a piangere. Ricordo che piansi, perché piangi? Perché credevo di essere impazzito, invece l'ho mosso veramente le dita. Vorrei fare un brindisi. Brindisi, Alessia, Antonio, grazie a noi. Grazie. Tanta salute. Tanta salute a tutti. A tutti. Salute. Salute. La nostra bellezza è prima di tutto. Cambiati sempre tanta fortuna. Alla nostra vita che cambiamo almeno, almeno fino a morire. Ma dicono sempre, poi direi a me lo vado. Eh sì. Dimmi che ti piace questa. A te piace questa. Adesso lo assaggio. Questa va bene. Non so che a te piace. Ma che il tuo capirizzo appaggiano la terapia. Il 13 ottobre del 1929 si partì per andare a Verona, in cui ci sarebbe passati sei mesi appunto di studio per essere promossi guardia. Chi va a cercare fortuna, vi troverà l'amor. Ebbene, io il pensiero solo di andare a Verona, cioè in continente, mi entusiasmava al punto che mi sembrava di sognare. E a mezzanotte va... Ruiu, Antonio Ruiu, va in continente, va guardia di finanza, è fortunato. Tutti mi impazzivano dalla curiosità di sapere come mai ero riuscito a partire. Giunti a Civitavetti, ovviamente si scese dalla nave. E io mi guardavo intorno e vedevo la gente e mi dicevo, ma sono uguali a noi. Ma il continente di Calora non è diverso dalla Sardegna. L'unica differenza che notavo era che gli altri avevano tutte le scarpe. Mentre invece in Sardegna, specialmente i giovanotti, erano tutti scalzi. Arrivato a Verona, al battaglione allievi, quando gli dissero che io ero analfabeta, che non potevo rimanere lì, allora lui dice, per fortuna non gli abbiamo ancora distribuito il corredo, fategli il foglio di via e rimandatelo a casa. Allora mi inginucchiai davanti al Maggiore, piansi e lo implorai, per pietà, dico mi tenga qui, non mi mandi via. Se mi manda via mi butto sotto il treno quando sarò alla stazione. Quaglio, noi ti tenemme, però, durante il periodo di sei mesi, durante il periodo in cui sarai allievo, dovrai studiare. Questo è un battaglione allievi del 1929-30. E un giorno, passando da Piazza di Sassari, da Piazza Sassari, vidi proprio davanti al monumento a Vittorio Emanuele II, 4-5 in camicia nera e il manganello, che fermarono una donna vestita bene, la tennero ferma e le fecero bere una bottiglia di olio di ricino. E gliela misero in bocca, un po' andò fuori, ma glielo fecero ingoiare tutto. E poi la tennero lì. Dopo un'oretta circa, l'Oriori Ricci ha effettuato i suoi poteri, evidentemente, e questa donna si sporcò tutta. E la gente, invece di intervenire, rideva. E io mi guardavo intorno e dicevo, tra me, ma come? Invece di prendere i quattro briganti e farli a pezzi, la gente ride. Mi son ficato in testa questo particolare e da loro odiato il fascismo sempre, sempre, sempre. Questo a che cosa serve tutto questo? A fare un film su di te. A fare un documentario su di te. Cioè, è tutto un lavoro solamente sulla tua vita, sul tuo diario. Hai capito. E qualcuno doveva interpretarlo? No, tu lo interpreti. Ah, io? Sei tu. Allora viene trasmesso così? Sì. Ah, per bacco. L'8 settembre. L'8 settembre si formarono le prime formazioni partigiane e io venne di nuovo mobilitato per andare in Jugoslavia a fare la guerra. Con un battaglione speciale. Allora io piantai tutto e mandai in montagna. È un campo di spazio che in escezionati, in escezionati, non è un campo di spazio, non è un campo di spazio o di strada, ma è un campo di spazio o di spazio. Questo pure, quando tu dici che potevi circolare, io potevo circolare liberamente senza nessuno in questa cosa. Ah, quella durante il periodo clandestino. Io, siccome avevo il busto, la guerra partigiana, cosa avrei potuto fare? Allora mi nominarono comandante del servizio di informazione della brigata Lillo Moncada. E io facevo servizio nelle stabilimenti della Duca ed ero sempre a contatto con i tedeschi. E c'era interprete, un certo canale. E io mi ero inteso con lui perché lui era un antifascista. E mi faceva sapere tutti i movimenti che facevano i fascisti e i tedeschi. È vero perché lui come interprete veniva a sapere tutto. E allora lo comunicava a me. Io lo comunicava ai partigiani e li attendevano e li attaccavano, insomma. Avevo conosciuto un partigiano lì e mi indicò appunto io che avevo il documento di andare ad Augo Lamalfa. E mi costruì una cintola. E il biglietto era dentro la cintola. E mi disse, tu vai a questo recapito. Allora io suonai alla porta. Suonai alla porta, dopo un po' mi venne aperto. Chi sei mi fece? E cosa vuoi? Tu. Mi hanno detto che sei anarchico, quindi siamo compagni. E tu devi sapere dove si trova Mauro Scocimarro e l'elio basso. Allora entra dentro. Spostò il mobile. Mi ricordo che sentì un freddo qui. Ed era una pistola. Io dico, sono andato dal pericolo. Io sono andato a finire verso la morte qui. Mauro, ma scherziamo? E poi mi accesero una luce fortissima. Dice, chi sei? Io spiegai tutto quanto. Spiegai che venivo da Milano, che mi avevamo andato con la maffa, eccetera, eccetera. Dopo le spiegazioni si è accesa la luce. E lì c'era Mauro Scocimarro, il quale si presentò e mi disse, io sono Mauro Scocimarro. E l'altro disse, io sono l'elio basso. Mi strinsero la mano e andammo su. E c'era Gian Calano, mi diceva, ci volevo tanto per spiegarti, perché era uno al quale piaceva scherzare. Quindi da allora divenimmo amici, proprio in virtù del fatto che era un anarchico, che era di esempio a tutta Cagna e Sulmero. Sentì urlare dappertutto, si urlava, bene, una sua, la guerra è finita, la guerra. Ah, dico meno male. Invece la guerra non è dove, il peggio dovevamo cominciare. Eccola qui. Ah, cristaccio di legno. Meno male, cristaccio di legno. Ma però, probabilmente te l'ho detto. Eccola, vi ho detto l'ufficiale che è 51, ed è 51. Ecco, guarda, legge qua. Allora, c'è scritto. Leggi forte, eh, è chiaro. Rui Antonio, fu Giuseppe e di Masra Bainja, da Tissi Sassari, classe 1911, appuntato di finanza, partigiano combattente. Viene segnito della croce al valore militare con la seguente motivazione. Nei giorni dell'insoluzione generale, otteneva la resa del presidio tedesco di Avigliana, forte di oltre 500 uomini, dimostrando nel corso delle attrattative, singolari doti di abilità e di fermezza, eccetera, eccetera. Rifiuto sdegnosamente questa decorazione che non ritengo di meritare. Non ritengo di meritarla perché io, preso parte alla guerra di liberazione, convinto che fosse una rivoluzione veramente in senso sociale, cioè un rivolgimento della società in senso sociale, che non vi fossero più né padroni né servi. Per favore, apri un po' la porta di lì, in camera da letto. E anche la finestra, perché questo è un uniforme. Sì, sì. Quando mi videro i tedeschi, e seppero che io ero un partigiano proprio quello che aveva catturato i tre tedeschi, mi disse, se entro le quattro non saranno liberati i tedeschi, io, dice, distruggerò Avigliana. Allora gli dissi, lei si deve arrendere. La quinta divisione alpina non le potrà telefonare perché è stata catturata stamattina dagli americani. Tutto questo me lo inventai io perché non sapevo nulla, ma dovevo inventare qualche cosa per riuscire a salvare me e gli altri. E non dimentichi che lei è circondata da 15 mila partigiani e secondo i miei ordini avverrà l'attacco e gli eventuali superstiti si saranno considerati criminali di guerra e passati per le armi. Avigliana fu salva, però quattro giorni dopo arrivò la quinta divisione alpina, che non era io, avevo solo bleffato, è arrivata a Grugliasco, si scatenò contro la folla e uccise 66 persone, donne, bambini e vecchi. Infatti oggi Grugliasco ha intitolato la sua principale piazza, piazza 66. Avigliana, aprile 1945, croce al valore militare. Presto, presto, presto qui e mi butta dentro un pozzo che era un pozzo nero ma vecchio, vecchio, vecchio e mi ha chiuso subito lì. Sono rimasto chiuso lì. Arriva la notte e io lì. Però un'ora dopo di essere stato lì, ho sentito che c'erano dei tedeschi lì che parlavano con questa donna. Ah, dice quello lì, sì sì sì, l'ho visto, corre, è andato giù di lì. E io ho sentito, è andato giù di lì. E quello lì ero io, lì sotto. E quindi sono andati giù i tedeschi e io sono rimasto lì. Lì domani mattina ho sentito muovere e mi cade addosso un pane così, tagliato a metà con salame e di tutto. L'ho mangiato, avevo una fame e non ne potevo più. E poi avevo sette. Ero lì, pensavo io, ero lì. Tutto in cuore, mi sento il freddo qui. Una bottiglia. Apro la bottiglia ed era vino. L'ho bevuto tutto. E poi dopo un po' mi sembrava di andare in barca. Si vede che è rubriaco. Ma ho provato un'impressione che non lo so spiegare. Mi sembrava di volare, di andare lì. E sono stato lì, un po' di tempo lì. Mi viene da ridere da piacere. E io stando lì fermo non sapevo cosa fare. Allora ho preso il giornale che avvolgeva questo pane e leggo. Era nuova. Esce quando può. Cos'è l'anarchia? Lo imparai a memoria. Non l'ho mai dimenticato questo articolo qui. Ma analizzando bene, allora dico, è l'ideale che ho io? Io sono anarchico, allora se questa è l'anarchia. E da allora la mia vita è stata sempre in mezzo a loro. E diffondevo, come ho detto prima, i giornali nel nucleo di polizia tributaria. Tant'è che poi cercarono di farmi fuori trasferendomi a Cuneo, eccetera, eccetera. L'anarchia è un ideale nobilissimo. Non si può essere anarchici così. Devono essere prima di tutto delle persone colte e poi delle persone oneste, rispettose del prossimo. E io più invecchio e più mi affeziono a questo ideale. Sono capitato in un covo di briganti e io che brigante non sono, esco di qui sdegnosamente.